Einstein ha scoperto la sua formula a 24 anni, Leopardi ha scritto un infinito a 21 anni e per venire ai nostri tempi, quello che ha inventato Google e anche l'altro che ha inventato Apple hanno incominciato in un garage tra i 20 e i 30 anni. L'ideazione tra i 15 e i 30 anni è potentissima, è un'ideazione grezza, non ha la raffinatezza dell'adulto. Ora cosa noi facciamo di questi ragazzi? Ma gli facciamo fare i lavori co-co-co, i lavori a profitto, i lavori a progetto, i lavori in affitto quando gli facciamo fare le fotocopie. E allora una società che spreca la parte più ideativa, più sessuata e più biologica di se stessa non ha futuro.